Se non bastassero la pizza di maccheroni, salumi, le fave, le uova in tutte le salse consumate ieri, la tavola oggi comunque non deluderà. Il pranzo del sabato santo appare un po' come l'anticipazione della Pasquetta, quello di oggi si fa leggermente più costruito. Dall'antipasto al dolce è sempre trionfo della tradizione, ovviamente con pietanze fatte in casa e con prodotti a chilometro zero, dai piselli ai cipollotti dell'agro, passando per i tagliolini e i salumi campani, senza dimenticare gli squisiti carciofi arrostiti, il cui fumo in questi giorni per tutti è diventato un profumo. L'antipasto di Pasqua, che cosa prevede? L'antipasto di Pasqua principalmente prevede salumi, sempre carciofi arrostiti, chi preferisce carciofi, uova sode, frittata sempre di cipolle, diciamo è come se fosse un remember del sabato santo. Poi invece passiamo al primo, ci sono i tagliolini che sono... I tagliolini non possono mancare, sono proprio quelli della tradizione, tagliolini all'uovo fatti in casa e si possono venire nelle immagini. E come li preparate? Con un bel ragù con la bracciola di vitello. Bello tirato? Bello tirato, tirato, che deve essere bello tirato. Per secondo c'è l'agnello. Sì, per secondo non può mancare l'agnello al forno con le patate, fatto con le cipolle novelle e una spruzzata di pecorino. Qualcuno però lo preferisce anche alla griglia l'agnello, è consigliato? Sì, certamente, certamente che è consigliato. Chi lo preferisce arrostito lo può mangiare anche arrostito, però principalmente si fa al forno con le patate. Poi il vino non deve mai mancare sulla tavola? Il vino sulla tavola non deve mai mancare. E infine il dolce, quelli tipici? Il dolce, la classica, la pastiera, non può mancare. E poi si usa anche fare la zeppola di pasta cotta, fritta, passata nel miele con i confettini di zucchero. Non resta quindi che curare a tutti buona Pasqua e buon appetito. Sì, certamente, buona Pasqua a tutti. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.